Finalmente conosciamo i giochi del PlayStation Plus disponibili nel mese di luglio e come sempre ce n'è davvero per tutti i gusti. Anche in questo caso conosciamo i giochi annunciati per chi è abbonato al PlayStation Plus Essential, il primo livello degli abbonamenti che PlayStation ha introdotto da circa un anno. Prima di iniziare vi ricordiamo di mettere un mi piace e di iscrivervi con la campanella attiva sul nostro sito videogiocitalia.it e trovate l'articolo completo in forma scritta. Buona visione! Tutti i giochi PlayStation Plus Essential saranno disponibili dal 4 luglio fino alla fine del mese. Tutte e tre i videogiochi sono disponibili sia per PlayStation 4 che per PlayStation 5. Black Ops Cold War vi lancerà in mezzo all'instabile conflitto geopolitico della guerra fredda nei primi anni 80. Affrontate personaggi storici e verità difficili da accettare mentre combattete in tutto il mondo in luoghi iconici come Berlino Est, il Vietnam, la Turchia, il quartier generale del KGB sovietico e tanto altra ancora. In qualità di operatore d'elite vi metterete alla ricerca di una scura figura in una missione che destabilizzerà gli equilibri globali di potere e cambierà il corso della storia. Calate nel vivo di un torbido complotto globale accanto ai famosi personaggi Woods, Mason e Hudson, oltre a nuovi operatori che tenteranno di fermare una cospirazione in atto da decenni. Il tormentato autore Alan Wake parte alla disperata ricerca della moglie scomparsa, Alice, dopo la sua misteriosa sparizione dalla cittadina di Bright Falls, a nord ovest della costa del Pacifico. Wake trova delle pagine di una storia dell'orrore in cui sembra l'autore, ma che non ricorda di aver scritto. Wake si troverà presto a mettere in tubo la sua sanità mentale quando, pagina dopo pagina, la storia prende vita davanti ai suoi occhi. Un'oscurità sovrannaturale e ostile si sta impossessando di tutte le persone che trova per poi scagliarle contro di lui. Vivete un mondo devastato dall'umanità attraverso gli occhi dell'ultima volpe sulla terra in questa avventura ecologica. Scoprite la forza distruttiva della razza umana che corrompe, inquina e sfrutta giorno dopo giorno le risorse più preziose della natura. Esplorate diverse aree 3D, a scorrimento laterale, difendete le vostre minuscole palle di pelo, nutritele, guardatele crescere, scoprite le loro personalità e paure uniche e, soprattutto, aiutatele a sopravvivere. Bene ragazzi, anche questo video giunge al termine. Non vi ringraziamo per la visione, lasciate un like e iscrivetevi con la campanella attiva e fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate di questi nuovi titoli disponibili del PlayStation Plus di luglio. Un saluto e alla prossima! Grazie!